Oggi parliamo del disco del calciatore. Abbiamo con noi Mario Ierardi, difensore del Vicenza Calcio, reduci da un'infiltrazione, d'ossigeno-zonoterapia e alcolato vertebrale. Come stai Mario? Adesso dopo l'infiltrazione molto meglio grazie alla vostra riabilitazione perché prima di fare l'infiltrazione non riuscivo a calciare, sentivo allungare sempre tutto il nervo, mi dava fastidio, sempre irritato. Adesso con la riabilitazione ci sono altri miglioramenti, mi riesco allungare la gamba molto di più. Facendo aeroterapia mi trovo molto bene perché mi ha accelerato molti tempi di recupero, molto più rilassante, molto più agevolata, stare tutti in acqua, però adesso dovrò iniziare anche a farla fuori. Devo imparare a utilizzare bene la schiena al di fuori del calcio perché prendiamo tanti colpi sulla schiena, correndo, saltando, sono tanti sforzi anche solo facendo palestra. Invece con gli aiuti che mi state dando riesco a controllarmi di più anche la postura quando sono seduto, fuori dal campo, altre miglia cose che prima non ci avevo pensato. Bene Mario, allora come hai capito sarà importante quindi lavorare non solo fuori dal campo ma anche in campo e non possiamo vederti. Forza Mario! E sempre Forza Vicenza!